Musica Hello guys, Renderna here Benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale Oggi è martedì e indovinate un po' che gameplay c'è Ovviamente Zelda, mamma mia com'è bello questo gioco ragazzi Allora, ci eravamo salutati l'altra volta qui sull'isola Drago Se vi ricordate, che sarebbe l'isola quella col Drago lassù E mi sembra anche alquanto ovvio, no? Isola Drago, c'è un Drago Beh, beh, la fantasia di questi produttori Ma, ma, davvero Facciamoci il nostro passaggio stile Link Stile Snake Metal Gear Perché a noi ci piace Snake e ci piace Metal Gear E quindi lo mettiamo ovunque Perché è bello Metal Gear, no? E quindi va bene così E vai Link Vai Link E ce ne andiamo direttamente nell'isola Drago Perché dobbiamo andare nell'isola Drago? Adesso ve lo faccio vedere Dobbiamo andare nell'isola Drago Perché All'interno dell'isola Drago appunto Dobbiamo andare a continuare la nostra bellissima storia Se vi ricordate L'ultima puntata Abbiamo parlato con il bimbo con la palla da fuori Come lo chiamo io Quello che ci dovrà dare la sfera di Din O la sfera di Dan Non mi ricordo mai come cazzo si chiama Però comunque Da quel tipo lì E quel tipo lì Ci ha detto che Sti cazzi Dobbiamo Dobbiamo Prendete Calmare il Drago E poi la tipa qui ci ha detto Vieni da me Perché poi ti faccio un Un servizietto di becco E noi siamo venuti da lei Ah sei qui Certo sono qui Scusa per averti fatto giungere in un luogo tanto pericoloso Fino a poco tempo fa questo stagno abbondava d'acqua Ma un giorno Ma un giorno Ok mi sono immaginato tipo la musica di Scraps Valoo fece precipitare giù un grosso masso Non c'è grosso ma si vede che è grosso Che ho trovato la sorgente allo stagno Si prosciugò Eeeh Brutta storia Dimenticavo di chiedertelo Come sta Feryl Eeeh un po' depresso C'ha una palla di fuori Si cambia anche colore Secondo me non sta molto bene Si lo sai già come sta Feryl Come Perché te lo chiedo Se Feryl è triste Blah 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 Anche colpa mia La nonna di Feryl Era la precedente dama di compagnia di Valoo La mia Maestra prediletta Era una dama coraggiosa E di grande talento Rispettata da tutta la tribù E da Valoo stesso Niente a chi vedere Come Eeeh Bella Cioè Avrai sì e no Mezzo anno Cosa vuoi che Cioè Come fa a rispettarti Un drago anziano Non lo so Vabbè comunque Eeeh Niente Lei vuole entrare nella caverna Del drago Eeeh Praticamente Ha bisogno Di il vento Perché vedete Adesso vi faccio vedere Qui Il vento cambia spesso Vi faccio vedere Come Vedi Le correnti cambiano spesso Di direzione Lo vedete Dalle particelle Eeeh Allora Noi come facciamo Facciamo così Salve Salve bro Allora Io ho deciso che Ho deciso che Oggi faremo Una canzone bellissima Cioè Quella del vento Che non era così Ma forse era così Ok Eeeh Ogni tanto Mi dimentico Come si fa Oh la La canzone del vento Salve Allora dobbiamo fare andare Il vento verso di qua Esattamente Quindi Oh la Vedete che bello Il vento Va verso di là Noi la prendiamo E Secondo voi da qua ce la fa E vai Vola 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 Porca puttana Che botta Sis Mamma mia Sì Aspetta Aspetta Ti vado a lanciare Da un posto più alto Forse da qua ce la facciamo Tananana Ha preso una bella botticella Comunque Vai Vai Sis Vai Bravissima Bravissima Non mi ricordo più come si chiami però Davvero Come ti chiami? Scusa Scusa Ehi tu Con l'arpa Perché è un'arpa Vabbè Se deve succedere qualcosa Ti prego Prenditi cura di Falin Va bene Tranquillo Tranquillo Ah che cosa mi hai dato? Cosa Cos'è quella? È un'ampolla Ah Allora vi faccio vedere Cosa ci serve l'ampolla Ti prego Non dire a nessuno Che sono nel monte a drago Perché poi potrebbero venire La gente E fare un mio Dio Randy Perché l'hai fatto andare Nel monte a drago E ci avete ragione pure voi Allora prendiamo dell'acqua E voi vi chiedere Randy Che cazzo ci fai con dell'acqua? E noi vi faccio vedere Ah praticamente Praticamente Vi faccio vedere Perché nel mio gameplay Quello in cui ho giocato In single player Ecco mettiamolo così No senza registrare Sono stato su questo pezzo Però non vedete mezzo E vedete queste cose qui Le vedete? Queste sono Sono fiori Sono fottuti fiori E dobbiamo Dobbiamo fare così Brothers Allora io Io vorrei dirvi Quanto tempo Ci sono rimasto Senza capire Cosa dovessi fare Ma Forse È meglio che non ve lo dico Perché davvero Potreste rimanere quasi sconvolti Il nostro obiettivo Ovviamente È quello di Attraversare il ponte Che adesso Si sta rialzando Con l'acqua Perché Abbiamo fatto esplodere Il masso enorme In quel modo Molto fast Very too Big E quindi adesso Noi ce ne possiamo andare lì Molto tranquillamente Tipo Yuppie ye ye Salve Sì sì Salve Faccio un viaggetto Nel laghetto Se non è un problema E adesso Possiamo continuare La nostra mitica avventura Hello Ok Qua Che cazzo devo fare qui Scusate Ah Forse così No 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 Così no Forse nel vaso Eh sì Link Ti chiamavano proprio Michael Jordan Ok Era nel vaso Buona Corri E lancia 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 Link Lancia Oh no Pezzo di un link Mannaggia a te Mannaggia Mannaggia a te Mannaggia Link Ah La lava La lava Link La lava Link La lava Scotta Non so se te l'avevano mai detto Link Eh Mi sembra ancora abbastanza in forma Però Per aver Preso un ostione da lava Sinceramente Sei sicuro di non aver preso qualche strana droga Che ti permettesse di resistere alla lava Link Non lo so Qualche fatina di troppo Oppure qualche cuoricino in overdose Eh Lo puoi dire Alla tua amica Renna Mica Ecco Non ti prendiamo in giro per questo Cioè Se Hai bisogno di quegli aiutini Ti capiamo Cioè Dopotutto sei sull'isola di un drago E Ebbè Brother Cioè Ditelo anche voi al link Che No 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 Senti te Potrò mai fare un canestro Salve Salve E direi che una volta Ma la cavavo bene a basket Allora Alla Finalmente Scendi giù Scendi giù Fammi passare La cosa bella di questo gioco Che non so se in realtà è tanto bella Che non si può saltare In tutti i Zelda Non si può saltare Una peculiarità di Zelda Non si salta Si Arriva al Oh siamo nella caverna del re drago Che ci dobbiamo fare nella caverna del re drago Domandona Da mille milioni di euro Non lo so Vabbè Dunque dicevo Una peculiarità degli Zelda Il fatto che non si possa davvero saltare Perché Salta in automatico Quando si arriva al bordo Di qualche struttura Togliti la spada Mi sa che questi si trascinano Oh yeah Ok Adesso io voglio trascinare questo Perché giustamente Gli abbiamo lasciato Il posto E Oh 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 Ma questo non lo posso trascinare Non lo posso spingere Posso fare un cazzo Ciao Hola Oh guardate lì Salve Io sono qui Non mi cagate Perché sono Se sono lì Perché non mi cagate Anche qui Niente Ok Siete ciechi Fino a Non lo so Fino a tipo Fino a 20 metri Sono ciechi Poi 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 iniziano a capire che Oh 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 Senta Senta lei Mi scusi Mi scusi Ok Basta Mi sono rotto Volevo fare il contrattacco Lì mi diceva Premia Premia E premia Rendy Premia E io l'ho premuta Ma quello mi faceva col saltino spastico Link Certo ci dobbiamo un po' allenare Con i saltini Eh Sì Direi proprio di sì No 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 Mio 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 Alla Che dobbiamo fare Che dobbiamo fare Ah lo so io che dobbiamo fare Guardate Torcia spenta Di qua Accendiamo la torcia Che si è spenta Merda Andiamo ad accendere il bastone Accendi il bastone Dal fuocherello E poi accendi qui Non so che cosa Dobbiamo far Ma intanto L'accendiamo Oh salve Uno scrigno Ci sarà una chiave? Non lo so Vediamo 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 Sono curiosi I scrigni sono fighi Ah Piccola chiave Che cazzo Ah di qua Di qua Di qua Di qua Salve Perfetto No 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 Torni 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 indietro Torni indietro Grazie No sai C'erano un paio Di vasi Che potremmo Anche decidere Di rompere Non so tu Ma a me Le rupie Non mi fanno schifo Ma Bro Non per altro Questa che roba è Acqua Acqua Si acqua Mi ricordavo bene Le rupie In questo gioco Effettivamente Servono Come un po' In tutti i giochi Di Zelda E un po' In tutti i giochi Avete mai visto Un gioco In cui Ci sono i soldi Ma i soldi Non servono Io mi sa di no Mi sa che Se li mettono Servono Cioè Se no Che cazzo li mettono fa Domanda da mille Di miliardi di euro Non lo so E qua Avremo così Proprio di violenza Link il vando Lo chiamano Oh no Perché vi sembra Di stare nel nether Di minecraft Davvero Cioè Ci sono le colonne Di lava Ci sono i pipistrelli Le bombe Non ci sono Però su minecraft E no Cannocchiale Neanche ce l'abbiamo Ce l'abbiamo cannocchiale Su minecraft Domanda No Non abbiamo cannocchiale Neanche con le mod Mi sa Neanche in ftb Forse in exit Chissà Chissà Eh ciccio Eh eh Thank you Bo sali Bravissimo Adesso sali di qua Bravissimo Due volte Hola Eh Quella colonna di lava Devo dire che Non mi No E chi cazzo L'aveva vista Lì Corri Corri Link Corri Corri Che ci sono Gli stupratori Bruttissimi Dietro Via 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 Lancia Hola Perfetto Oh Bene Io me Io me ne andrei Da qui Perché sinceramente Non mi sembra Un bel posto No Davvero Devo dirvi la verità Non mi sembrava Un bel posto Eh Allora Oh Che figa Ok Scusa Scusa Link Scusami Allora Mi sa che questa cosa Ci conviene prenderlo E fare tipo Così Eh Sì Direi proprio Che ci è convenuto Fare così Hola Mio Roba mia Tutta mia Aha E Fammi capire Cosa c'è qua dentro Che rispecchia Come tipo Uno specchio al sole La mappa Del labirinto Oh Sì Link Ce l'abbiamo Addirittura Abbiamo addirittura Una mappa Del labirinto Ma Questi cosi Sembrano Delle enormi Cacche Nere Sì Vero Non sono l'unico Che le pensa Ditemi che non sono l'unico Che pensa Una cosa così strana Oh Che cavolo è quello Ah vabbè Via Apri 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 Hola Salve Mi sa Mi sa Mi sa Che Oh guardalo Guarda Guarda il piece of shit Che mi voleva prendere Mi voleva prendere Allo sprovvista Ma dammi la tua Bellissimo Con lo spadone Così è grande Quanto Cioè lo spadone è più grande Di Link Fantastico Andiamo Siamo su monster hunter Però vedete Io c'ho la spadone E poi Adesso arriva qualcuno Con la katana Bellissimo Mamma mia Ma è one shot Sì one shot Madre Ma che roba è Gelatina Oh sì Questo era Se vi ricordate Non mi ricordo Se l'ho fatto vedere nel video Ma nella scorsa isola L'isola taura No Hai lasciato la spada La volevo la spada Link Però Chi ti ha detto Che volevo Che dovevi lasciare la spada Mannaggia a te Mannaggia Io ho l'impressione Che questi Dobbiamo lanciarli lì Esattamente così Ehm In isola taura C'è un tizio Che ci dice Che le Gelatine Ciuciu Dentro le ampolle Fanno miracoli E Tipo sono Tipo mega droga Over 9000 Tipo oh my god Bro yes Dove cavolo Dobbiamo andare Dove cavolo Dobbiamo andare Scusi Da qua non siamo venuti Mi sa di sì Scusate Apriamo un attimino Qua per sicurezza E sì No 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 Fermi Fermi Noi siamo venuti da qui Quindi torniamo indietro Ci sono anche i due I due bestioni E non mi va molto Di andarle a rifare Allora Noi siamo venuti da lì E da qui Abbiamo aperto Un passaggio Ok Fin qua Tutto Tutto chiaro Sì ci sono Ma adesso Come dove devo andare Chiedo scusa Una domandina Se è possibile Dove cavolo devo andare Oh 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 Un'altra volta Un'altra volta Ma non ti sono abbastate Quello che ti ho dato prima Non ti sono abbastate Quello che ti ho dato prima Eh Eh Ma Probabilmente no Dammi di nuovo la tua spada Mega gigantesca Perché mi piace un sacco E forse Posso andare di qua Cercare di prima E non l'abbiamo aperto Immagino Visto che non è che c'è tanta scelta Di strada Quindi andiamo di qua Yep 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 Rotola bello Rotola Rotola Perché se rotoli Il gusto della vita È più bello E entriamo di qua Dove che cavolo Qua c'è della Fermi Mi sa di là c'è della lava Quindi non so quanto Oh no 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 Para para rendi Para para Ah era così che si parava Cavolo Perché mi dimentico sempre Oh 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 Bella 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 Tutta per me Perfetto Di qua si può rompere Quindi Aha Olè Oh oh Guardalo Ma guarda che ci fanno gli agguatri Bro Ma non vale Ma non vale Allora Mi prendo la mazza Questo si apre Colpisci No Mmm Si brucia Si brucia Oh yeah Link il piromane Sir link The piromane Olè E salto su E salto su Ok E quindi andiamo Di qua Tanana Tatana Dove Cavolo siamo Siamo fuori Siamo sul vulcano Mi sa che siamo sul vulcano Brothers Dove siamo davvero I don't know I don't know I don't care I like it Ah no Non tagliare il ponte Link Non tagliare il ponte Quello ci serve ancora Mamma mia Link Che bandano Mamma mia I don't care I like Like it Che figata Ma questo Questo gioco Ha uno stile grafico Che è qualcosa Di Di eccezionale Davvero Brothers Mi piace Un sacchissimo Oh Oh Chi è questo Chi è Chi è Oh Questo uccellaccio Che è qui Che è qui Che Randy Ti apre il Non te lo posso dire Perché mi avete detto Randy guarda che Soprattutto sui giochi Zelda Ti stai dando Proprio la pazza gioia Con Con le Con un po' Di volgarità E quindi sto cercando Di trattenermi Alquanto In maniera tale Da essere più godibile Anche Per chi semmai Passa sul canale Solo vorrei vedere Link Mario E quant'altro E E ci avete abbastanza ragione Mi sono lasciato Un po' andare Un po' andare Madonna raga Che sonno Mamma mia Salta Ok No 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 Randy Randy Perché mamma mia C'era il tasto Accosta Di mamma mia Mamma mia Mamma mia No Ok torno al posto Di prima Ve lo prometto Torno lì Torno lì Ok bro Ci siamo Vai Randy No ma io Ah Si faceva così Eh però Sali un po' No Non ci voglio mai credere No bro Mamma mia Sto perdendo Tutta la vita Sto perdendo Oh link Link No 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 Link Non ti suicidare Ti vogliamo tutti Un sacco bene Ok Ci torniamo Ci torniamo Ok bro Andiamo Tatan 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 Tana Sali 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 Ok Randy Di non fare cazzate 28 milioni di cadute Per arrivare qui E non Cerchiamo di non fare cazzate Please Aha Oh yeah Io le devo lanciare così Tipo immagino È un po' troppo lontana Link è la forza Di una farfallina Senza ali Proprio Proprio il massimo Davvero Cioè Aha Oh e beh Stavolta C'è andata Oh yeah Salta Nostro Perfetto Entriamo E via Ci siamo tolti un pezzo Davanti Al nostro Al nostro Tutto Oh cos'è di qua No 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 Voglio entrarci Non ci posso entrare Ok l'entrata sarà da qualche altra parte Questi si tirano comunque di prima Immagino di sì Ok quindi tira Tira E poi tira Giusto E poi sali 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 Dai Oh Mannaggia Oh la Perfetto Oh topi Ci sono i topastri Bellissimo i topastri bro I topastri Eh Eh Se Non posso chiuderla quella Quindi come faccio Aspettate Mi stanno chiamando Chi è Chi è Chi è Quando è Hai visto quei topini furbetti Bla 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 Non è possibile Bla 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 Nutri Ah ok Se gli diamo la pappa Praticamente Sì in effetti Me lo ricordo Che l'ho letto Nel gameplay Scorso Che se gli diamo la pappa I topini I topini Ci ringraziano Dandoci tipo Delle cose preziose Così perché Abbiamo dato la pappona E quindi Fa noi bro Grazie Adesso noi ti diamo Tipo Eh Una collana Da mille milioni di euro Link Oh Ti diamo una collana Da mille milioni di euro Perché tu ci hai dato Un pezzo di pane Eh Oh la bussola Che figato bro Che figato Ok ok Prendiamo Prendiamo un attimino Una di queste A questo punto immagino Che dobbiamo fare una cosa del genere Tipo no Tipo così E poi tipo Mamma mia Rendi Potrei Oddio come si chiama Quello sport lì Giavellotti No Sì Lancio del Giavellotto No c'è proprio No Giavellotto è quello Quello che fanno Che girano su se stessi No quello pesante No c'è proprio Il lancio dell'asta Mi sa si chiama Quello che lanciano Proprio l'asta Si chiama lancio dell'asta Non lo so brothers I don't know Piccola chiave Yeah Stiamo guadagnando Un sacco di chiavi Grazie Se mi desse qualcosa altro Non lo so Tipo Una K47 E Un elicottero Anche l'elicottero Non sarebbe male Meglio della K47 Oddio Oddio Meno male Che è stato da solo Su sto gioco Meno male No davvero Bro Meno male Qualcosa ti dice Che la chiave Ce l'hai tu Vero Eh Mi sa che Se Mi sa proprio di se No No ce l'avevi tu Sotto il culo Quindi Grazie per la chiave Io me ne vado Alla velocità Di un veloci raptor Affamato Ciao Ciao bello Ah 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 Rendi Quante ne sai Una più del diavolo Ne sa Rendi Una più del diavolo Ok Prendiamoci una mazza Perché ci vedo il fuoco La mazza col fuoco Ah ah Ce la partiamo in giro Perché ci fa Uiii Mia 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 Ok Massacriamo Massacriamo questi stronzoni Oh oh i bitch Oh oh Bitch Yeah Oh la Aprite qui A questo punto Ci troviamo Prendiamo tutto Oh Porta felicità Ne avremmo tipo Una ventina No ventina Magari Ne abbiamo Diversi però Non male Non male Significa che Ci possiamo fare un po' di soldi Quegli egittini là in teoria si vendono al vendor, al venditore e no, 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 no e lì poi ci danno un sacco di rupie e noi siamo felici perché con le rupie ci facciamo un sacco di belle cose boh, dove siamo? siamo di nuovo all'interno del vulcano mi sa che siamo più in alto di prima eh, sì, sì, perché noi eravamo laggiù, noi eravamo laggiù ok, qua, devo lanciarlo lì? no, 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 no proprio lancio sbagliatissimo please ok ah, ah hola, ecco, cosa conduce questo? ah, sì, sì, sì ok, scusate lo sbadiglio no, no, che culo mamma mia, oggi mi muovo tipo un macaco spastico con un controller del Wii U in mano, e che mi fa sentire proprio davvero un macaco, brothers mi dovrei porre qualche domanda 9000, bro eh, sì, grazie andiamo anche di qua andiamo oh, oh, oh mannaggia c'è una spalla troppo lunga fa effetto Dark Soul oh, oh, guardalo 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 bitch ok, ok, datemi il bastone perché di là ho visto c'è il falò quindi bastone è proprio bruttissimo tipo datemi il bastone è proprio brutto, brothers oh, là e ci darà un'altra cassa immagino oh, sì e infatti sì e infatti sì lanciamo lanciamo il bastone eh, tira il bastone bravissimo ah, ah questo mi sembra grosso mi sembra grosso mi sembra grosso che cavolo è una mappa del tesoro è qualcosa di più grosso sinceramente bro, eh cioè, da come l'hai tirata fuori e anche questo sembra abbastanza brutto detto così però da come l'ha tirato fuori no, effettivamente si suona proprio male da come l'ha mostrato eh così suona meglio da come l'ha mostrato sembrava tipo che non so tipo milioni di rupie in una cassa oppure che non so tipo la soluzione finale a tutti i mali o ancora come la prendo quella roba quella là su così oh mio 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 oh là ok perché con la porta chiusa secondo me vi faccio vedere c'è qualche nemico che non abbiamo ucciso eccolo qui perché quando non si aprono le porte così significa che ci sono dei nemici che non abbiamo ucciso perché significa che sono porte che si aprono con l'uccisione dei nemici e ok vedete che si sono aperte bella bella rendi perfetto perfetto tu e Zelda siete l'unica cosa metti a posto metti a posto allo scudo però eh bravissimo Link bravissimo mamma mia mamma mia quanto amo questo gioco andiamo di qua no 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 andiamo di qua perfetto entra ho detto entra oh la vedo dell'acqua mhm cos'è quel cos'è cazzo è quel coso oh what ehm mi sa che non è morto vero non credo muoia così facilmente con dell'acqua cioè con della lava essendo tipo fatto di lava oh 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 il rischio non sapevo neanche dove andare brothers davvero mi sono buttato proprio così il rischio l'enorme rischio è rimasto tipo tipo ho detto ho pensato rendi cosa cazzo hai fatto rendi no davvero eh ah ok ok no 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 ora tutto torna ora tutto torna lancia 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 che esplodiamo in 28 ok un vaso comunicante si si scusami grazie grazie oh ok e lì cosa ci sarà un'uscita un'uscita perfetto go 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 tu uscita olè siamo fuori dal vulcano il draghetto ciao draghetto ok c'è qualcosa secondo me sta sta andando a far sentire male il nostro draghetto perché non so se sentite che sta urlando leggermente e non è una gran cosa eh bro c'è un draghetto che vi urla nell'orecchio significa che c'è qualcosa no oh oh la mia amica oh brutti pezzi di shit datemi la mia amica oh oh quella quella è la mia amica claro claro io 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 vi massacro io vi massacro con la vostra stessa spada no ok se l'hai ripresa se l'hai ripresa scherzavo non uso la vostra spada oh oh ok 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 bro bro questi ci stanno facendo ci stanno facendo il Qlan aiuto ma la finisci di parare booo mamma mia il colpo di classe il colpo di classe di Link oh se e questo è più grosso però eh questo è decisamente più grosso sembri molto più incazzato degli altri due eeeh salve senta io le volevo dire che in realtà le voglio un sacco di bene no non è vero non è vero ah madonna che botta che c'ho oh 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 mio no 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 ah la voglio io quella ma dammi con lo mozzo dammi ah bruttissimo anche questa da dire ah vabbè diciamo che l'abbiamo ucciso quindi ci interessa una palla la palla comunque ce l'aveva giù il tizio ah ma questa si rompe oh oh guarda 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 una collana collana teschio conserva nel borsello una collana 4p invece ho perso la collezione figata brothers bro 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 ho 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 sono sono ho una lancia enorme ho proprio vi piace la mia mazza è bellissima vero è è è fantastica ok vai andiamo a fare colpo sull'attiva ciao ti piace lo so lo so guarda guarda è un po che si si ma che cosa succede qualcosa stava succedendo la coda di valù ma povola povola guardalo scende fino a sotto fino a qualcosa sotto sicuramente il chilo di rita si trova lì bla 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 la cattura che hanno fatto bla 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 dobbiamo fare in fretta ok per uscire da acquisto questo strumento che cavolo chiedo scusa oh 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 grande il rampino ok bro allora siamo vicino ai 30 minuti vicinissimi io direi ok lei vola è facile così eh facile così eh sì perché sono tutti bravi sono tutti bravi a volare eh volevo dire eh naggia a te mannaggia ok mira col rampino sì vi faccio vedere come funziona il rampino bro quindi così miriamo oh yeah e yuppie ok ancora 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 no no ho fatto mega fail ok ancora bella vai link vai link yuppie ok mi diverto un sacco mi diverto un sacchissimo perfetto scendiamo e di qua c'è una porta però di qua ci sono i cosi quindi andiamo di qua perfetto grazie mille yuppie e poi ancora ancora salta così ah vi ricordo che il video è 1080p ve lo dico a fine video ma comunque sì è 1080p se volete caricarlo 1080p se avete la connessione abbastanza uber e yuppie siamo giù ma mi sa che questa è un'altra uscita infatti qua non ci eravamo mai venuti bro noi ci lasciamo qui e ci vediamo nel prossimo video lasciate un mi piace un commentino e vi ricordo che nella descrizione trovate tutti i link per pagina facebook ask e quant'altro anche su twitch e seguitemi anche la perché ci stiamo muovendo molto in più vi ricordo per chi non l'avesse visto che ieri è uscito il primo contest del mio canale e appunto se volete partecipare andate a trovare andate a vedere il video è un contest con me è sapphire italia noi ci vediamo al prossimo video lasciate un mi piace un commentino e enjoy e che era il nese con voi bye bye ah si giusto scusate la selfie di link che ha finito il livello è nel vulcano non ce la possiamo perdere soprattutto col tipo che perde la roba vai link fai il sorrisetto idiota bella bye bye ciao a tutti ieri ciao a tutti ieri